ragazzi a cosa abbiamo appena assistito allora il titolo è molto azzeccato la rivoluzione comincia ora ora ci siamo è lo zenith il punto zero dalla quale bisogna costruire qualcosa di nuovo o di rinnovato ecco nella struttura noi abbiamo sempre goduto di avventure grafiche interattive avventure grafiche video ludiche con svolte narrative e decisioni da intraprendere per cambiare completamente l'assetto della storia e questa struttura solita dei videogame ora viene trasferita direttamente in un vero e proprio lungometraggio e quindi i due medium le due dimensioni le due arti si mischiano e si confondono diventano un'unica entità a sé stante black mirror bandersnatch è uno speciale non so se ritenerlo un episodio è uno speciale tra i più audaci possiamo dire dell'intera piattaforma netflix durante moltissime sequenze comparirà nella parte bassa dello schermo una banda nera con due opzioni selezionabili dal proprio telecomando controller o direttamente dallo smartphone due opzioni che sono delle vere e proprie scelte morali così facendo andremo a ritoccare a modellare la storia a nostro piacimento ma l'aspetto più riuscito di questo esperimento è che non solo interagiamo coi personaggi ma forniremo loro degli spunti di riflessione per rifinire la morale a fine visione non voglio cimentarmi in spoiler lascio a voi il piacere della scoperta è un prodotto fresco fresco appena pubblicato ma c'è da dire che si rompe qualsiasi barriera l'autoreferenzialità di base la critica al sistema stesso che muove i fili all'interno della superpotenza netflix black mirror e i creatori si spingono oltre si aggiornano ci conducono in un nuovo universo narrativo in cui è richiesta la partecipazione attiva dello spettatore la visione di solito in generale è passiva ma qui è richiesta proprio questa attenzione ai dettagli bisogna cogliere tutti i dettagli che siano scenici o collegati a profili caratteriali dei personaggi la nostra mente poi continuerà ad elaborare dati e risultati per comprendere appieno lo svolgimento delle vicende io non credo si possa demolire un'operazione di questo tipo per quel preciso motivo l'attenzione tutta da rivolgere al film un coinvolgimento ulteriore per carpire assimilare molteplici punti di vista e i bivi narrativi che conducono a nuove interpretazioni a nuove prospettive si amplierà a dismisura la durata complessiva dell'ora e mezza vi sono cinque ore di girato si apriranno a ventaglio le opzioni a nostra disposizione e ci sarà anche la possibilità di tornare indietro di rivivere certi momenti ed evitare l'esito negativo siamo parte della storia diverremo anche uno spunto un soggetto base da cui si svilupperà la sceneggiatura assumeremo persino le sembianze di dio di malattia mentale per il protagonista in alcune scelte ci sentiremo anche in colpa secondo il mio parere è qualcosa di veramente innovativo uno stimolante potenziale che vorrei si presentasse in altre occasioni non voglio aggiungere altro e non voglio rovinarmi nulla godetevelo ci beccheremo sotto nei commenti per approfondimenti vari qui antonio cianci ira catafilma che voleva condividere con voi l'entusiasmo che ho provato accumulato di fronte a questo black mirror bandersnatch un pollicione in alto se vi è piaciuto il video qui sotto ci confronteremo con i pareri ora posso seriamente augurarvi un buon inizio 2019 un abbraccio carissimi seguaci del raccata film ciao alla prossima